Buonasera, eccomi di nuovo questa sera, l'ultima domenica dell'anno 2018 e quindi c'è abbastanza da pensare, abbastanza da riflettere e abbastanza da sperare per il prossimo anno. Sono ancora qui con un altro numero di epoca e direte ma perché c'hai questa fissazione di epoca? Perché ho trovato in casa questo numero speciale di epoca che celebra i vent'anni della rivista, del settimanale. E' il 1046esimo numero, è uscito l'11 ottobre del 1970 e costa lire 180. Ricordate il precedente numero, il precedente video nel quale ho presentato il primo numero della rivista epoca? Era del 15 ottobre 1950 e qui siamo all'11 ottobre del 1970. Vent'anni, vent'anni di una rivista. Devo dire, è molto più bello, almeno molto più appassionante, molto più interessante, molto più vivace dal punto di vista della curiosità, dell'accendere la curiosità del lettore. Il primo numero, ne abbiamo parlato abbastanza, rappresentava un'Italia nel 1950 che sperava nel domani, nello sviluppo, nella ripresa economica, nella ripresa sociale, nel ringiovanimento della società. Ringiovanimento della società. Era un numero di speranza, tant'è che sulla copertina c'era quel viso, quel bel ritratto fotografico di Liliana, ragazza italiana. Il numero 20 della rivista epoca non ha fisionomie in primo piano, non ha figure, non ha uomini, non ha donne, non ha una fotografia che riguarda un paesaggio, ma è praticamente una copertina, un fondo d'oro, un fondo d'oro, una cosa luminosa, una cosa senza spazio, senza tempo, come sono praticamente nella storia dell'arte i fondi d'oro. Cioè i fondi d'oro rappresentano il nulla e l'assoluto, rappresentano il tempo che c'è e che non c'è. Se si mette un cielo, se si mette un paesaggio, se si mette una veduta urbana, vuol dire che c'è la realtà, che si guarda la realtà. Quando si mette un fondo d'oro, o su una tavola, o su dei mosaici, o su dei catini absidali, o sulla copertina di una rivista, vuol dire che non ci si vuole compromettere, che non ci si vuole, che non si sa qual è l'aspetto vero della realtà, della cronaca quotidiana. Quindi il ventesimo numero, che poi lo esaminiamo così molto rapidamente, per me ha questa caratteristica negativa. Esteticamente va bene, una copertina dorata fa sempre effetto, però vuol dire che non c'è nulla, che non c'è materia, che non c'è immagine, che non c'è un episodio che meriti di essere messo in copertina. Liliana, ragazza italiana, dava il là all'Italia. Qui, dopo vent'anni, l'Italia già si stava addormentando e aggrovigliando nei propri problemi. Ci sono dei titoli, dei titoli di quello che eventualmente viene messo, però praticamente è un'autocelebrazione. vent'anni di epoca al servizio della verità. Eh vabbè, la verità è la verità di epoca, certo non è forse la verità assoluta. Vent'anni di successi e di crescente prestigio della rivista aumentava probabilmente nelle vendite, aumentava nell'impatto critico, come rivista dal punto di vista giornalistico o nell'analisi poteva essere interessante. vent'anni festeggiati con una serie di numeri speciali e un dono, porta fortuna, per tutti i lettori. E va bene, quindi mentre si dicono vent'anni, la rivista si autocelebra. e tant'è che nella prima pagina, nel primo numero, vi ricordate, c'erano già le richieste dei lettori che volevano sapere, volevano capire, c'erano degli articoli di politici emergenti che giudicavano certi aspetti della società. Invece qui le prime pagine sono tutti gli auguri che fanno i personaggi dell'Italia del 1970. Giuseppe Saragat era il Presidente della Repubblica, Giuseppe Branca era il Presidente della Corte Costituzionale, e poi Amintore Fanfani, Presidente del Senato, e Pertini, Presidente della Camera, Emilio Colombo, Presidente del Consiglio, e poi Restivo, e poi Moro, e poi Danassi, e poi sempre andando avanti tutti i personaggi, misasi, vi ricordate, misasi, il Ministro della Pubblica Istruzione, e però anche qualche scrittore, Dino Buzzati, Ignazio Silone, Mario Soldati, Fulvio Tomizza, Eugenio Montale, e per esempio vediamo Montale che dice, un personaggio diciamo dal punto di vista letterario fondamentale per l'Italia, unitamente alla trattazione dei grandi problemi generali del nostro tempo, epoca, non ha mai trascurato le lettere, le arti e la cultura, meritava di vivere per vent'anni e mi auguro che ne viva altre tanti, ma non lo so se è arrivata nel 1990, non mi ricordo, ricordo che a casa nostra non si comprava più, e si è comprato questo numero speciale, perché chiaramente i numeri speciali, in un certo senso, fanno storia, e tant'è che ancora lo conservo, e c'è la curiosità di leggere, c'è per esempio Indro Montanelli con l'augurio che questo ventennale sia il prologo di un centenario e con tanti rallegramenti, ma non lo so se è arrivata a cent'anni, certo nel 2050, epoca, non arriverà perché neanche esce più. Comunque, rapidamente, quindi fatta questa valutazione sulla copertina che già per me è indicativa di quelli che saranno poi i contenuti della rivista, dobbiamo certo dire che, insomma, graficamente, a parte il formato, è rimasto quello del primo numero, le pagine sono oltre 170, quindi un centinaio in più del primo numero. Il prezzo non è neanche tanto aumentato perché costava 100 lire nel 50 e 180 lire dopo 20 anni, insomma, mi sembra che come progressione di costo di copertina non sia molto. però ci stanno già le pubblicità, c'è la pubblicità del parmigiano reggiano e poi ci sono altre pubblicità della gilette, della barba, per gli uomini, però ci sono pure deodoranti, ci sono pure pubblicità di profumi, ci sono ben due pubblicità di cognac, cognac francesi, e quindi questo dimostra, insomma, che già c'era un certo tenore di vita, negli anni 70 il tenore di vita italiano incominciava a essere discreto e quindi c'è, diciamo, l'uomo che deve essere presentabile, deve essere pulito, profumato, può anche bere del cognac, che all'epoca si poteva fare la pubblicità degli alcolici, adesso è vietatissima quella degli alcolici, quella delle sigarette, praticamente, insomma, ci stanno un sacco di divieti adesso, come se la gente fosse veramente così, talmente bambina, che insomma, che se vede poi una pagina alla pubblicità di un cognac, si presuppone che poi si vada a piegare, ma non è così, la gente è abbastanza selettiva nelle cose. E poi, e come poi sono delle piccole pubblicità e poi, diciamo, in Italia già c'è Italia Domanda, c'è Italia Domanda e poi ci sono delle analisi veramente interessanti, tipo quella di Domenico Bartoli, che era un, che era un giornalista, un giornalista attivo, mi sembra specializzato proprio in politica estera, e che fa un buon articolo, che fa un buon articolo di politica, di politica internazionale, e che cosa notava? In questi giorni, nei giorni dell'ottobre 1970, c'era stata la visita del presidente americano Nixon, il quale presidente americano venne in Italia quasi così, quasi, non dico bene ufficialmente, ma quasi di nascosto, perché c'erano tutte le proteste di piazza, come sempre, quando arrivava un presidente degli Stati Uniti in maniera particolare, e quindi dovete arrivare con l'elicottero, e questo divenne un argomento di discussione e di preoccupazione dal punto di vista, diciamo, della componente moderata della società, che diceva perché un presidente americano viene accolto così male in Italia, mentre aveva fatto in giro sempre Nixon in altri paesi dell'est europeo e lì era stato accolto con grandi, no, grandi no, ma insomma, con tranquillità, era stato accolto quasi pacificamente, insomma, dalle popolazioni, e lui racconta, dice, analizza, esamina Bartoni, che, come è ovvio, insomma, come quasi tutti noi possiamo pensare, Nixon in Italia, quando è arrivato, è arrivato da presidente degli Stati Uniti, quindi capace di dare quasi delle direttive all'Italia, noi siamo, eravamo alleati ancora adesso degli Stati Uniti, però, insomma, si pensava che fossimo quasi subalterni agli Stati Uniti, come adesso tutti dicono che siamo subalterni all'Europa, ma non credo, no, e invece negli altri paesi il presidente Nixon e il presidente degli Stati Uniti era accolto come una persona che in un certo senso andava ad ascoltare, andava così a rendersi conto della società che era appunto sotto, diciamo, sotto l'ana della Unione Sovietica, ma non aveva, insomma, nessuna pretesa così di dare ordini o di dare direttive, era eventualmente una figura che dava speranza. E poi c'è un articolo e quindi, insomma, già ci sono queste forme così di contrasti, di divisione nell'ambito dell'Italia, della società e della politica italiana. Nel 1950 si erano tutti compatti, pronti a ricostruire, era in fondo anche graficamente la rivista era uniforme, quasi tutta compatta, con pochissima pubblicità, tutta bianca e nero, fotografie bianca e nero, delle bellissime tavole documentarie, invece adesso è varia, è varia, è piena di pubblicità, è ricca di pubblicità, ci sono tutti i colori, ormai si fanno pure le pubblicità ai viaggi, quindi probabilmente insomma l'economia andava benino e c'era gente che poteva fare viaggi e addirittura ancora c'era la compagnia Italia, la compagnia di navigazione Italia con le crociere di linea, insomma c'erano questi grandi transatlantici nell'epoca, no? Vi ricordate, c'è la figurina del transatlantico, adesso ci sono le navi private da crociere, all'epoca le compagnie nazionali di navigazione curavano anche le crociere e quindi poi qui c'è la pubblicità e quindi già cominciano i signori in la pubblicità tutte le cante con i signori che bevono il tè in una forma un po' anglosassone, ecco qua, questo appunto è l'articolo di Domenico Bartoli, l'articolo di Domenico Bartoli che molto polemicamente dice l'elicottero di Dixon è il simbolo della nostra debolezza politica, appunto quello che dicevo prima, cioè già vent'anni prima nessuno parlava di un'Italia debole, ma un'Italia che voleva migliorare e adesso già incominciano tutte le critiche, le polemiche, ma questo è normale e quindi e poi c'è adesso appunto vi leggo qualche titolo dell'indice e appunto da parte gli auguri e poi i problemi della casa e poi e poi un articolo molto ampio su Tito su Tito che era il il presidente dell'Ajusolavia che però che era nostra che era l'Ajusolavia era uno stato di regime socialista confinante con l'Italia quindi noi ci andavamo molto caudi però c'era questo presidente dittatore che era abbastanza fermo nella sua politica anche verso nei riguardi dell'Unione Sovietica non era un eredico però teneva bada diciamo non era molto sottomesso alle direttive di Mosca e poi e poi ci sono tante tante fotografie sui funerali di Nasser che era il presidente dell'Egitto nomi storici che ai giovani non dicono nulla a parte non hanno studiato la storia moderna e Nasser era morto e ci sono per l'Egitto era un personaggio importantissimo e c'è un repertorio fotografico ricchissimo di fotografie con le immagini di questa popolazione di questa gente disperata che piange folle di persone che piangevano la morte di Nasser un personaggio molto importante della politica medio orientale e che insomma a quanto pare era anche ben voluto dalla popolazione e poi c'è un grosso articolo sugli Stati Uniti l'America viene considerata ormai il simbolo della ricchezza del così dello sviluppo finanziario ma è più economico che finanziario ancora la finanza adesso ma all'epoca era l'economia vera basata sulla produzione sul prodotto sull'acciaio sulle opere sul carbone sulle costruzioni sugli edifici insomma l'economia degli Stati Uniti era la vera economia basata sia sull'industria che sulla ricchezza agricola forestale insomma i grandi spazi degli Stati Uniti consentono una ricchezza praticamente globale e poi c'era qui vedevo che c'era poi c'era un articolo contro l'infarto no contro insomma che dà delle indicazioni sull'infarto e poi avevo letto questa cosa qui e vabbè non lo vedo insomma sugli spettacoli ecco questo è l'articolo su Stalin su su l'articolo cioè il dittatore che che sfidò Stalin appunto abbiamo abbiamo detto ecco qui c'è questa grande fotografia del comandante maresciallo Tito con tutti i suoi partigiani però insomma viene Augusto Guerriero era uno storico un giornalista storico che parla abbastanza bene di questo personaggio che insomma noi ce l'avevamo al confine e che però insomma tante preoccupazioni forse più di tanto all'Italia non le dava ecco qui e poi c'è questa e quindi ci sono adesso tutte queste tutte queste immagini il pianto il pianto degli egiziani e quindi questa morte di Nasserre che aveva creato tragedie che aveva creato dolori ecco qua vedete insomma il ritratto qualche d'uno se lo ricorderà e quindi insomma questo era il mondo islamico il mondo islamico il mondo arabo che però aveva la sua aveva le sue regole la sua disciplina l'Egitto in fondo è stato sempre un paese uno stato una nazione che non ha dato mai tanti problemi alla politica internazionale salvo appunto tutto il suo conflitto con l'Israele ma quella è un'altra questione e ci sono appunto delle pubblicità di alcuni cognac e di alcuni liquori e poi c'è tutto un inserto autocelebrativo di epoca che parla della sua redazione delle sue macchine delle sue rotative della capacità enorme dei giornalisti di prendere notizie da tutto il mondo e poi tutti i vari specialisti giornalisti specialisti Luigi Baldacci esperto per i libri Raffaele Carrieri faceva gli articoli sull'arte e poi il famoso Alberto Dallora un grande giurista che parlava di cose di legge e poi Aldo Gabrielli era famosissimo per la linguistica era uno studioso della lingua italiana insomma una volta c'erano veramente c'erano veramente queste riviste che affrontavano tanti aspetti importanti insomma tanti tanti aspetti economici ma anche culturali della società e poi ci sono le foto di queste grandi rotative con questi con questi cilindri enormi della carta che servivano per per le stampare e qui tutti ci sono tutti i camion che portano appunto quintali e quintali di di carta che servivano appunto per per la stampa di questa bella rivista e che punto bella rivista era c'è la pubblicità delle benzine ho detto c'era la pubblicità della Citroen la DS la Pallas DS quella macchina particolare che fece tanta degli anni 60 che fece tanto fulgore e poi un reportage su Aligi Sasso il pittore con alcune con le foto di alcuni suoi dipinti che vanno così un po' dinamici da De Chirico vanno il greco un pochino lo stesso Picasso insomma ecco queste però è una diciamo più che un servizio sulla critica d'arte è un servizio su questo personaggio una persona abbastanza così riservata e quindi viene delineata la figura di un pittore più che dal punto di vista appunto critico dal punto di vista proprio umano insomma si può essere pittori anche essendo persone tranquille e poi c'è l'album dei francobolli all'epoca andavano di moda ecco qua l'articolo andavano di moda la raccolta dei francobolli chi è che da ragazzo non raccoglieva i francobolli adesso manca gli tamperanno più ormai soprattutto è tutto in digitale e poi c'è un servizio quello che cercavo su mai che buongiorno su mai che buongiorno quindi la rivista da 15 anni giochiamo con mai che buongiorno ora la rivista c'ha 20 anni mai che buongiorno c'era 15 che stava sulla 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 televisione quindi era diventato un personaggio veramente importante quindi parentesi come vediamo non è più solo Liliana la ragazza italiana simbolo di questo popolo nostro che voleva un pochino rinascere ed avanzare ormai i personaggi sono tanti sono politici sono di spettacolo sono personaggi della politica estera questo è importantissimo il concetto del personaggio della politica estera è che influisce tanto sull'Italia e qui c'è questa e qui diciamo che c'è sicuramente ve la ricordate quindi dell'età mia se la ricordano la famosa valletta Sabina Sabina Ciuffini mi sembra che si chiamasse che ormai è un personaggio popolarissimo eccola qua una bella ragazza brunetta con un vestito alla moda vi dice vestito mi di mi di metto e metto no c'erano i miei coni c'erano quelli lunghi poi c'erano queste così a metà e quindi c'è l'evoluzione con quella famosa Liliana della Cupertina che ormai non è più la protagonista della storia d'Italia ma protagonista forse è Mike Bongiorno e era una protagonista più che importante più che famosa più che conosciuta più che popolare era la Sabina Ciuffini la cosiddetta valletta di Mike Bongiorno che era noto per i suoi giochi a quiz di grande successo e poi qui ci sono le foto di alcune cose di alcune ci sono le foto di alcuni personaggi che giocavano e che vincevano perché all'epoca poi erano tutte domande di cultura domande importanti no e però poi mano a mano che si rispondeva si andava avanti diventavano sempre più difficili e poi mi ricordo questo personaggio qui la signora Longari sulla sinistra che è famosissima e poi il 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 signor Decoli che pure questo vinse 2 milioni 560 milioni che all'epoca erano vinse questa è una fase del gioco insomma vinse parecchi soldi erano persone che avevano grande cultura e soprattutto grande memoria di loro avevano e poi c'è addirittura il parere psicologo per capire forse che cosa gli italiani facevano o perché seguivano con tanta passione questi giochi a quiz condotti da Mike Bongiorno insomma sono queste un pochino tutte ecco qua qui c'è la pubblicità della pura lana vergine irrestringibile di Abel o Li Abel ricordate anche a Carosello veniva usato c'era il simbolo della pura lana vergine che per l'Italia era era un qualche cosa di molto importante i tessuti italiani le lane italiane erano importantissime tutte le più grandi case d'abbigliamento da donna e da uomo erano poi erano con queste lane purissime italiane c'era proprio un'associazione dei lanieri che era una delle adesso in età moderna associazioni erano le antiche corporazioni quella dei lanieri è importantissima poi ormai con il mercato internazionale con gli scambi forse anche la preziosità e il pregio delle lane italiane è andata a finire però allora si diceva pura lana vergine e poi c'è un articolo su Adriano Panatta il giovane Adriano Panatta che era addirittura considerato il re del tempo insomma questo adesso per concludere insomma per andare avanti molto basato sulle molto basato molto basato su le immagini su articoli vari su valutazioni così diciamo meno entusiaste meno profonde ma meno che facevano da meno guida da meno speranza di quella che era forse l'Italia gli articoli e la rivista di vent'anni prima e poi c'è un altro servizio sempre di epoca che parla autoreferenziale in senso buono in senso buono cioè un computer una delle prime volte che si usava questo termine il computer nel 1970 c'era questo termine già in uso il computer il computer che gestiva in servizio l'elenco degli abbonati però poi nel sottotitolo viene chiamato calcolatore elettronico un calcolatore elettronico controlla l'enorme meccanismo degli abbonamenti delle riviste della Mondadori epoca edita dalla Mondadori la sua unità di tempo è il microsecondo e tutto procede ad una velocità vertiginosa tra mille operazioni automatiche che all'epoca si parlava appunto di calcolatore elettronico di operazioni automatiche e però non era ancora il computer di oggi adesso gli specialisti sapranno la differenza però erano diciamo in un certo senso meccanici adesso basato tutto sul digitale e sui famosi algoritmi penso che proprio stiamo in un'evoluzione molto maggiore rispetto al 1970 insomma pure parecchi anni sono passati dal 70 però anche già all'epoca 1970 il signore abbonato invece che il nome invece che col nome col cognome veniva identificato non con un algoritmo ma con un numero seriale 2 0 1 3 ecco vedete questo era diciamo il nome dell'abbonato il nome dell'abbonato corrispondeva a una cifra con varie numeri insomma con varie cifre e poi l'abbonamento le 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 rotative insomma tutto viene velocizzato quindi questa è un pochino questa rivista ecco e allora come abbiamo detto è una rivista che celebra appunto ecco vedete pure nell'ultima pagina di copertina c'è la pubblicità del Cognac vecchia Romagna insomma quindi penso che si possa fare mettere in un secondo la pubblicità e e basta e questo dunque è il concetto di di questa rivista 20 anni di evoca 1970 nessuna immagine ma diciamo una copertina aniconica nel senso che c'è solo un concetto generale complessivo dorato e questo d'oro non è forse anche probabilmente per rendere prezioso anche probabilmente per rendere preziosa la per rendere preziosa diciamo l'immagine della rivista ma anche per dare questo senso di spazio di senza tempo di senza luogo e così con una visione più diciamo più concettuale che forse giornalistica nel microcosmo delle cose ecco spero così di avere detto delle cose che possono essere così accettate e non e non considerate solo balle mie ecco qua buonasera e auguri con il ventissimo anno di una rivista siamo alla vigilia dell'anno nuovo all'anti vigilia dell'anno nuovo e e così vent'anni vent'anni di auguri vent'anni di auguri vent'anni di auguri a tutti buonasera di auguri